Sì, è un risultato che ci può stare, sapevamo che era un campo difficile, dove affrontavamo una squadra che cercava punti per la salvezza, noi siamo venuti qui a fare sempre il nostro gioco e siamo anche un po' stati sfortunati in alcune occasioni, però tutto sommato è un punto che ci può stare. Sì, manca poco, noi affrontiamo ogni partita settimana per settimana, sicuramente analizzeremo qualcosa di questa partita e poi pensiamo già subito alla US.